La Battipagliese ha ufficializzato il tesseramento del calciatore Mario Mazzei. Nato a Cava nel 1992, Mazzei è un difensore centrale che ha vestito le casacche di Pomigliano, Sporting Scafatese, Cavese, Turris, Sarnese e Manfredonia, totalizzando 52 presenze e un gol in Serie D. Sono contento di questa nuova avventura, ha affermato Mazzei, in una piazza che merita ben altri palcoscenici. Spero, insieme alla squadra, di raggiungere gli obiettivi che la società ha prefissato.